Assoenology è un network sempre più radicato sul territorio con professionalità, competenza tecnica e sensibilità verso le nuove sfide del comparto vino. Questi sono i fattori fondamentali che ci portano ad alimentare sempre di più la fruttosa partnership con questa associazione al servizio del vino italiano di qualità. Eno offre un know-how consolidato e completo a chi produce vino, ha modificato il modello di gestione del processo di rapporto e affiancamento al winemaker, quindi non più un approccio basato sul controllo lungo la filiera produttiva e sul prodotto finale, ma un criterio gestionale integrato che coinvolge sia il diagramma di flusso che lo staff dell'azienda e il suo livello professionale. L'enologo definisce le caratteristiche specifiche del vino che vuole ottenere ed Eno collabora alle tecnologie applicative proponendo i prodotti migliori per ottenere il risultato prefissato, elevato e costante. L'azienda propone una vasta gamma di prodotti biotecnologici che permettono una gestione razionale del dinamico processo della trasformazione uva-vino. Le nostre biotecnologie hanno formulazioni esclusive che rispondono in modo attento e mirato ai processi tecnologici e a qualsiasi eventuale esigenza. Ogni prodotto Eno porta con sé una tecnologia all'avanguardia frutto dell'attività costante condotta dal nostro gruppo ricerca e sviluppo e la certezza di una consulenza puntuale che accompagna ogni cliente attraverso le procedure di utilizzo per il conseguimento del miglior risultato finale. Tutti i reparti che compongono la nostra realtà sono pensati, progettati, strutturati ed eticamente concepiti per assistere al massimo i nostri clienti nel rispetto del loro prodotto e dell'ambiente in cui nasce. Questa è la motivazione che spinge Eno alla conquista dell'eccellenza di ciò che creano. Grazie a tutti!